fine della mia infanzia. Ai, Yulgai, mi stai strappando la testa. Diventerò calvo come un monaco, se non la smetti. State fermo, martedì lobsang. Dovete avere il codino diritto e ben cosparso di burro, o la vostra onorevole madre mi scorticherà vivo. Ma Yulgai non è necessario che tu sia così energico, finirai con lo staccarmi la testa. Oh, non posso preoccuparmi di queste cose, oh fretta. Ero seduto sul pavimento e un servo robusto sembrava volermi caricare, servendosi del mio codino come di una manovella. Alla lunga, la disgraziata appendice divenne rigida come un iac congelato e scintillante come il chiaro di luna sul lago. La mamma sembrava un turbine e si muoveva qua e la così in fretta che mi pareva quasi di avere parecchie madri. Doveva impartire gli ordini dell'ultimo momento. Fervevano gli ultimi preparativi e tutti parlavano con animazione. Yaso, di due anni più anziana di me, si dava da fare come una donna di 40 anni. Il babbo si era chiuso nella sua stanza privata, lontano dal tumulto. Desiderai di poter fare altrettanto. Per un motivo o per l'altro, la mamma aveva disposto che andassimo allo Jokang, la cattedrale di Lhasa. A quel che sembrava dovevamo circondare di un'atmosfera religiosa le cerimonie successive. Verso le 10 del mattino. Gli orari, nel Tibet, sono molto elastici. Un gong a tre note risuonò per avvertirci CH, era giunto il momento di andare. Salimmo tutti sui poni. Il babbo, la mamma, Yaso e altre cinque persone, compreso l'assai riluttante sottoscritto. Voltammo sulla strada di Linkor, abbandonandola ai piedi del Potala. Il Potala è un massiccio roccioso coperto di edifici, alto 120 metri e lungo 400. Ci lasciamo indietro il villaggio di Shaw passando sulla pianura del Kichu e, una mezzetà ora dopo, ci trovammo di fronte allo Jokang. Intorno a esso si raggruppavano piccole case, botteghe e banchi di venditori per allettare i pellegrini. Da 1300 anni la cattedrale si levava in quel punto dando il benvenuto ai devoti. All'interno, i pavimenti di pietra erano stati consumati per una profondità di parecchi centimetri dal passaggio di tanti fedeli. I pellegrini si spostavano in atteggiamento reverente intorno al circuito interno e ognuno di loro, passando, faceva girare le centinaia di ruote o mulinelli delle preghiere e ripeteva senza posa il mantra, uno, om, mani padmeum. Enormi travi di legno, il tetto, e l'odore greve dell'incenso che bruciava ininterrottamente aleggiava dappertutto, come leggere nubi estive sulla cresta d'una montagna. Lungo le pareti si trovavano statue d'oro delle divinità della nostra fede. Robuste reti metalliche proteggevano le statue senza impedirne la vista da coloro la cui cupidigia avesse sopraffatto il rispetto. Quasi tutte le statue più familiari erano ricoperte in parte dalle pietre preziose e dai gioielli ammonticchiati intorno a esse dai fedeli venuti a impetrare grazie. Candelabri d'oro massiccio reggevano candele che ardevano senza interruzione e la cui luce non si era mai spenta negli ultimi 1300 anni. Da oscuri recessi giungevano suoni di campane e di gonghe e le note muggenti dei corni. Facemmo anche noi il giro del tempio, come richiedeva la tradizione. Una volta recitate le preghiere, salimmo sul tetto a terrazza. Solo pochi privilegiati potevano recarvisi, il babbo, essendo uno dei custodi, vi andava sempre. La forma dei governi, va bene il plurale, può interessare. Come capo dello stato e della chiesa, e giudice inappellabile, vera il Dalai Lama. Chiunque, nel nostro paese, poteva inviargli petizioni. Se la petizione o la richiesta erano eque, o se un'ingiustizia era stata commessa, il Dalai Lama provvedeva affinché la richiesta venisse soddisfatta, o il torto riparato. Non è irragionevole dire che tutti nel paese, con ogni probabilità senza eccezioni, lo amavano e lo rispettavano. Il Dalai Lama era un autocrate, disponeva del potere e del dominio assoluto, e tuttavia non se ne avvaleva mai nel proprio interesse, ma solo per il bene del paese. Prevedeva la futura invasione comunista, anche se da essa ci separavano molti anni ancora, e il temporaneo venir meno della libertà per questo un piccolissimo numero di tibetani veniva particolarmente addestrato, in modo che le arti dei sacerdoti non dovessero essere dimenticate. Dopo il Dalai Lama erano due consigli, per tale ragione ho scritto, governi. Il primo era il consiglio ecclesiastico, i suoi quattro membri erano monaci giunti allo stato di Lama. Da essi dipendeva, agli ordini del Supremo, la direzione di tutte le Lamaserie e di tutti i conventi di monache. Ogni questione ecclesiastica veniva a loro deferita. Veniva subito dopo il consiglio dei ministri. Questo consiglio era composto da quattro membri, tre laici e un ecclesiastico. Essi si occupavano di tutti gli affari civili del paese e avevano la responsabilità di integrare la Chiesa e lo Stato. Due funzionari, che possono essere denominati, primi ministri, in quanto ricoprivano in sostanza tale carica, fungevano da, ufficiali di collegamento, tra i due consigli ed esponevano i loro punti di vista al Dalai Lama. Avevano un'importanza notevole in occasione delle rare riunioni dell'Assemblea nazionale. Quest'ultima era un consesso di circa 50 uomini che rappresentavano tutte le più importanti famiglie Lamaserie a Lasa. Si riunivano solo quando si determinavano le più gravi situazioni di pericolo, come nel 1904, allorché il Dalai Lama si era rifugiato in Mongolia, avendo gli inglesi invaso l'Asa. In conseguenza di tale avvenimento, molti, in Occidente, hanno la strana convinzione che il Supremo si sia comportato da codardo, prendendo la fuga. Ma egli non prese la fuga. Le guerre nel Tibet possono essere paragonate a una partita a scacchi. Se il re viene eliminato, la partita è vinta. Il Dalai Lama era il nostro re. Senza di lui non vi sarebbe stato più nulla per cui combattere. Egli doveva mettersi in salvo onde assicurare la compattezza del paese. Coloro che lo accusano di codardia, in qualsiasi forma, non sanno, semplicemente, quel che dicono. L'Assemblea nazionale poteva arrivare a quasi 400 membri quando vi partecipavano tutti i capi delle province. Le province sono 5. La capitale, come l'Asa veniva spesso chiamata, si trova nella provincia di Utisang. Shigeitis è situata nello stesso distretto. Gartok è il Tibet occidentale. Shang il Tibet settentrionale. Mentre KML o Zong sono, rispettivamente, la provincia orientale e la provincia meridionale. Con il passare degli anni, il potere del Dalai Lama si era cresciuto. Egli faceva sempre più a meno della collaborazione dei consigli e dell'Assemblea. E il paese non era mai stato meglio governato. Il panorama dal tetto del Tempio era superbo. A est si scorgeva la pianura di Lhasa, verde, lussureggiante e cosparsa di alberi. L'acqua scintilla attraverso il fogliame. I fiumi di Lhasa scorrono gorgogliando per gettarsi nell'Oti Sang Po, lontano 65 chilometri. Al nord e al sud si levano le grandi catene montuose che racchiudono la nostra valle e ci fanno sentire isolati dal resto del mondo. Le lamazerie abbondavano sui primi contrafforti. Più in alto, i piccoli monasteri si appollaiavano precariamente su precipiti pendii. A ovest torreggiavano i due monti gemelli Potala e Shakpori, quest'ultimo chiamato Tempio della Medicina. Tra queste montagne, la porta occidentale scintillava nella fredda luce del mattino. Il cielo era di un violetto profondo, posto maggiormente in risalto dal bianco puro delle nevi sulle lontane catene montuose. Nubi leggere e lanuginose passavano alte su di noi. Nelle immediate vicinanze, nella città stessa, potevamo contemplare dall'alto il Palazzo del Consiglio, rannicchiato contro il muro nord della cattedrale. La tesoreria si trovava vicinissima a noi e tutti questi edifici erano circondati dai banchi dei venditori e dal mercato, nel quale si poteva acquistare quasi ogni cosa. Non lontano, lievemente a est, un convento di mona che confinava con la sede degli uomini della morte, o becchini. Dallo spiazzo della cattedrale si levava il cicaleccio confuso e incessante di coloro che venivano a visitare questo luogo, uno dei più sacri del buddismo. Le conversazioni dei pellegrini che avevano superato grandi distanze e portavano doni nella speranza di ottenere una santa benedizione. Venerano che conducevano animali sottratti ai macellai e acquistati con il loro poco denaro. È una grande virtù il salvare la vita di un animale o di un uomo e un simile gesto accresce in vasta misura i meriti di chi lo compie. Mentre osservavamo queste scene consuete ma sempre nuove, udimmo le voci dei monaci che salmodiavano levarsi possenti e diminuire di intensità con il basso profondo degli uomini più anziani e il tremolo acuto degli accoliti. Ci giunse anche il rullare e il rimbombare dei tamburi, insieme alle limpide note d'oro delle trombe. Suoni squillanti, vibrazioni soffocate, e la sensazione di essere prigionieri in una rete ipnotica di emozioni. Monaci si aggiravano dappertutto, sbrigando le loro varie mansioni. Alcuni con vesti gialle, altri con vesti purpuree. Nella grande maggioranza indossavano vesti di un marrone rossastro, ed erano questi i monaci, comuni. I monaci in color oro appartenevano al potala, al pari di quelli con vesti color ciliegia. Gli accoliti in bianco e i monaci poliziotti in marrone scuro si davano un gran da fare. Ma tutti, o quasi tutti, avevano una cosa in comune, per quanto nuove potessero essere le loro vesti. Esse erano anche, nella grande maggioranza, rattoppate, e ciò per imitare le toppe sulle vesti del Buddha. Gli stranieri che hanno conosciuto monaci tibetani o ne hanno veduto le fotografie, notano a volte il loro aspetto di straccioni. Le rappezzature, invece, fanno parte dell'abito. I monaci della la Maseria Nessar, antica di 1200 anni, fanno le cose a dovere e applicano alle vesti toppe di una tinta lievemente più chiara. I monaci portano le vesti rosse dell'ordine. Vi sono molte sfumature di rosso, dovute al modo con il quale vengono tinti tessuti di lana, marrone o color mattone. Le vesti sono sempre, rosse. Certi monaci di rango elevato, che risiedono esclusivamente nel Potala, portano giubbetti dorati senza maniche sulle rosse vesti. L'oro è un colore sacro nel Tibet. L'oro essendo inalterabile e pertanto puro ed è anche il colore ufficiale del Dalai Lama. Alcuni monaci, o alti lama, addetti al servizio personale del Dalai Lama, sono autorizzati a indossare vesti dorate su quelle comuni, rosse. Mentre ci guardavamo intorno dal tetto dello Jokang, vedemmo molte di queste figure con giubbetti dorati, e solo di rado uno dei massimi funzionari. Alzammo gli occhi verso i vessilli delle preghiere che si agitavano nel vento e le cupole scintillanti della cattedrale. Il cielo era meraviglioso, violetto, con piccole chiazze di nubi lanuginose, come se un pittore avesse appena spruzzato la tela del cielo con un pennello carico di diacca. Mia madre spezzò l'incantesimo. Beh, stiamo perdendo tempo. Rabbrividisco al pensiero di quello che possono combinare i servi. Dobbiamo affrettarci. E così ripartimmo sui poni pazienti, i cui zoccoli risuonavano sulla strada di l'incore ogni cui passo mi portava più vicino a quello ch. Io chiamavo, la dura prova, ma che la mamma considerava il suo gran giorno. Una volta tornati a casa, la mamma controllò per l'ultima volta tutto ciò ch. Era stato fatto, poi consumammo un pasto per immagazzinare energia in vista degli eventi. Sapevamo bene che, in occasioni come quella, gli invitati si saziano fino a essere pienamente soddisfatti, mentre i poveri anfitrioni rimangono a stomaco vuoto. In seguito non avremmo più avuto il tempo di mangiare. Con un gran cozzare di strumenti i monaci musicanti arrivarono e furono fatti passare nei giardini. Erano carichi di trombe, clarinetti, gong e tamburi. Avevano piatti appesi al collo. Uscirono nei giardini chiacchierando con animazione e chiesero birra in modo da mettersi nello stato d'animo più adatto per ben suonare. Nella mezzetà ora che seguì si udirono suoni orribili e striduli squilli di tromba mentre i monaci accordavano gli strumenti. Un alto clamore si levò nel cortile quando furono avvistati i primi invitati, un corteo di uomini armati e a cavallo con vessilli sventolanti. Le porte furono spalancate e i nostri servi si allinearono su due file, una a ciascun lato, per dare il benvenuto agli ospiti. L'amministratore si trovava all'insieme a due aiutanti con un assortimento di sciarpe di seta utilizzate nel Tibet come una forma di saluto. Esistono otto qualità di sciarpe, e occorre offrire esattamente quella prevista dalle costumanze, altrimenti si corre il rischio di arrecare una grave offesa. Il Dalai Lama offre, e riceve, soltanto sciarpe di primo grado. Denominiamo le sciarpe kata ed esse vengono offerte come segue. Il donatore, se di pari rango, si tiene ben discosto con le braccia tese. Anche colui che riceve il dono si tiene discosto a braccia tese. Il donatore fa un breve inchino e pone la sciarpa sui polsi della persona alla quale è destinato il dono. Quest'ultima si inchina a sua volta, toglie la sciarpa dai propri polsi, la gira e la rigira esaminandola con approvazione, poi la porge a un servo. Nel caso in cui il donatore offre la sciarpa a una persona di rango assai più elevato, deve inginocchiarsi facendo sporgere la lingua, una forma di saluto che nel Tibet equivale a togliersi il cappello, e porre la kata ai piedi di colui al quale il dono è destinato. Questi, in tali casi, mette la sciarpa al collo del donatore. Nel Tibet i doni devono sempre essere accompagnati dall'opportuna kata, e così pure le lettere di congratulazione. Il governo si serviva di sciarpe gialle, in luogo di quelle normali, bianche. Il Dalai Lama, quando voleva dar prova della sua più alta considerazione a una determinata persona, le metteva al collo una kata e la legava con un filo di seta rossa annodato tre volte. Se poi, al contempo, mostrava le mani con il palmo rivolto verso l'alto, ciò equivaleva al massimo degli onori. Noi tibetani siamo fermamente convinti che l'intero destino degli individui sia scritto sul palmo della mano, e il Dalai Lama, mostrando le mani in tal modo, dimostrava le intenzioni più amichevoli. Negli anni che seguirono, un così alto onore mi toccò per ben due volte. Il nostro amministratore rimase sull'ingresso, con un aiutante a ciascun lato. Si inchinava all'arrivo di ogni ospite, ne accettava la kata e la passava all'aiutante alla sua sinistra. Al contempo, l'aiutante che si trovava alla sua destra gli porgeva la sciarpa più indicata, con la quale ricambiare il saluto. Egli la prendeva e la poneva sui polsi, o intorno al collo dell'ospite, a seconda del suo rango. Tutte queste sciarpe venivano utilizzate più volte. L'amministratore e i suoi aiutanti erano sempre più impegnati. Gli invitati arrivavano in gran numero. Dalle vicine proprietà, dalla città di Lasa e dalle regioni circostanti, giungevano tutti percorrendo la strada di Linco revoltando poi nel nostro viale privato ai piedi del Potala. Le dame che avevano superato a cavallo un lungo tragitto portavano una maschera di cuoio per proteggersi la pelle e l'incarnato dai venti carichi di sabbia. Non di rado, una grossolana immagine dei lineamenti della donna era dipinta sulla maschera. Una volta giunta a destinazione, la dama si toglieva la maschera, nonché il mantello di pelle di Iac. Le fattezze dipinte sulle maschere non mancavano mai di affascinarmi. Quanto più brutta o vecchia era la donna tanto più belli e giovanili erano i lineamenti tracciati sul cuoio. In casa ferveva un'attività intensa. Dai magazzini venivano portati cuscini in numero sempre più grande. Non ci serviamo di sedie, nel Tibet, ma ci mettiamo a sedere, a gambe incrociate, su cuscini di circa mezzo metro quadrato a venti uno spessore di circa ventidue centimetri. Questi stessi cuscini vengono utilizzati per dormire, ma allora se ne dispongono parecchi l'uno accanto all'altro. Li troviamo assai più comodi delle sedie o dei letti sollevati dal pavimento. Agli ospiti, subito dopo il loro arrivo, veniva offerto temisto a burro, poi li si introduceva in una vasta sala CH, era stata trasformata in refettorio. Qui potevano scegliere tra vari rinfreschi e ristorarsi fino al momento in cui avrebbe avuto inizio la festa vera e propria. Erano arrivate circa 40 dame delle famiglie più importanti, insieme alle loro cameriere. Alcune di queste dame furono intrattenute da mia madre, mentre le altre girellavano per la casa esaminando i mobili e valutandone il valore. Tutte le stanze sembravano traboccare di donne d'ogni dimensione, statura ed età. Saltavano fuori dai luoghi più impensati e non esitavano neppure un attimo a chiedere ai servi di passaggio in quel momento, quanto costasse questo o quanto valesse quest'altro. Si comportavano, in breve, come le donne in tutto il mondo. Mia sorella Yaso si pavoneggiava con vesti nuovissime, con i capelli acconciati secondo quella CH, e la riteneva essere l'ultima moda, ma che a me sembrava un orrore. D'altronde, io ero sempre prevenuto, allorché si trattava delle donne. Certo, quel giorno sembravano essere molto importune. Tanto per complicare le cose, vera anche un altro tipo di donne. Nel Tibet, la donna d'alto rango deve possedere enormi quantità di abiti e un gran numero di gioielli, e deve inoltre sfoggiarli. Poiché ciò avrebbe richiesto un faticoso e incessante spogliarsi e rivestirsi. Apposite ragazze le fanciulle Schung venivano impiegate come indossatrici. Esse si pavoneggiavano per la casa con gli abiti di mia madre, si mettevano a sedere, sorbivano innumerevoli tazze di tè misto a burro, poi andavano a mettersi abiti e gioielli diversi. Si frammischiavano alle invitate e divenivano, a tutti gli effetti, vere e propri aiutanti della mamma come padrona di casa. Per tutto il giorno queste fanciulle non fecero che cambiarsi d'abito, anche cinque o sei volte. Gli uomini si interessavano soprattutto allo spettacolo nei giardini. Era stata assunta una troupe di acrobati per aggiungere alla festa una nota divertente. Tre di costoro reggevano un'asta alta forse quattro metri e mezzo e un altro acrobata vi si arrampicava e si teneva in equilibrio sul capo alla sua estremità. Poi i tre toglievano fulmineamente l'asta e lo lasciavano precipitare, girarsi in aria e cadere a terra diritto, come un gatto. Alcuni ragazzetti che avevano assistito all'esibizione corsero via immediatamente in un luogo appartato per emulare gli acrobati. Trovarono un'asta lunga due metri e mezzo o tre metri, la tennero perpendicolarmente e il più audace vi si arrampicò e tentò di reggervisi in equilibrio sul capo. Ma eccolo precipitare, con un tonfo spaventoso, proprio sulla testa degli altri. Quei ragazzi avevano la testa dura, comunque, e a parte alcuni bernoccoli grossi come uova, non si fecero alcun male. Mia madre apparve precedendo le altre dame, per assistere allo spettacolo e ascoltare la musica. Quest'ultima sgorgava impetuosa dagli strumenti. I musicisti erano stati ormai ben riscaldati da copiosi quantitativi di birra tibetana. In vista di tale occasione, la mamma si era vestita con particolare eleganza. Indossava una gonna di lana di yak, di un rosso scuro tendente al marrone, che le arrivava sin quasi alle caviglie. Gli alti stivali di feltro tibetano erano del bianco più scuro, con suole rosso sangue e stringhe rosse annodate con buon gusto. Il giubbetto tipo bolero era di un giallo rossastro, alquanto simile alla veste monacale del babbo. Negli anni seguenti, durante gli studi di medicina, avrei descritto quella tinta come tintura di iodio su una benda. Sotto il giubbetto ella portava una blusa di seta purpurea. Tutti questi colori si armonizzavano e la mamma li aveva scelti per rappresentare le diverse classi delle vesti dei monaci. Sulla spalla destra aveva una fascia di broccato di seta, trattenuta sul fianco sinistro, all'altezza della vita, da un cerchietto d'oro massiccio. Dalla spalla alla vita, la fascia aveva un color rosso sangue, ma più in basso essa passava da un giallo limone chiaro a un colore zafferano scuro nel punto in cui raggiungeva l'orlo della gonna. Al collo mia madre portava un filo d'oro al quale erano appesi i tre amuleti che non dimenticava mai di mettere. Le erano stati donati in occasione del matrimonio con il babbo. Uno dalla sua famiglia, un altro dalla famiglia di mio padre, e il terzo, onore eccezionale, dal Dalai Lama. Faceva sfoggio di molti gioielli perché le donne tibetane portano gioielli e preziosi ornamenti a seconda della loro posizione sociale. Il marito ha l'obbligo di acquistare ornamenti e gioielli a ogni passo avanti nella carriera. Per alcuni giorni prima del ricevimento, la mamma si era fatta suddividere i capelli in 108 trecce, ognuna delle quali avente presa poco lo spessore di una frusta. Il 108 è un numero sacro nel Tibet e le dame che avevano chiome così abbondanti da poterle suddividere in tal numero di trecce erano considerate fortunatissime. I capelli, spartiti nello stile, madonna, erano sostenuti da un'intelaiatura di legno portata a mo' di cappello. Di legno verniciato in lacca rossa. L'intelaiatura era tempestata di diamanti, giade e dischetti d'oro. I capelli vi erano disposti come rose rampicanti su un graticcio. Dall'orecchio di mia madre pendeva un filo di coralli. Il peso di questo gioiello era tale ch, e la doveva sostenerlo mediante un cordoncino rosso passato intorno all'orecchio, affinché il lobo non si lacerasse. L'orecchino le arrivava quasi alla vita. La contemplai affascinato, per vedere come sarebbe riuscita a voltare la testa a sinistra. Gli invitati passeggiavano qua e là, ammirando i giardini, oppure sedevano a gruppi, conversando e parlando del più e del meno. Le dame, soprattutto, erano impegnatissime nei pettegolezzi. Sì, mia cara, la signora Doring sta facendo costruire un nuovo pavimento. Di pietre ben macinate e lucidissime. Avete saputo che quel giovane lama il quale stava con la signora Rakasha. E così via. Ma in realtà tutti aspettavano l'evento dominante della giornata. Tutto ciò non era altro che una preparazione in attesa del momento in cui i preti astrologi avrebbero divinato il mio avvenire e indicato la via che avrei dovuto seguire nella vita. Da loro dipendeva la carriera CH, io avrei intrapreso. Di mano in mano che il giorno passava e che le ombre, sempre più lunghe, strisciavano con maggior rapidità sul terreno. Gli invitati divennero meno irrequieti. Erano sazi di rinfreschi e più propensi alla contemplazione. Ogni volta che l'altezza delle pile di cibi diminuiva, stanchi servi ne portavano altri, e anche questi scomparivano con il passare del tempo. Gli attori e gli acrobati che avevamo assunto si stancarono e a uno a uno sgattaiolarono nelle cucine per riposarsi e bere altra birra. I musicisti continuavano a essere in gran forma. Davano fiato alle trombe. Facevano cozzare i piatti gli uni contro gli altri e percuotevano i tamburi con allegro abbandono. Tutto quel frastuono e quel molto aveva spaventato gli uccelli, inducendoli ad abbandonare i loro nidi. E non soltanto gli uccelli erano spaventati. I gatti avevano preferito rintanarsi precipitosamente in qualche sicuro rifugio subito dopo l'arrivo dei primi, più chiassosi invitati. Persino gli enormi mastini neri che facevano la guardia alla casa tacevano. I loro latrati profondi tacitati dal sonno. Erano stati rimpinzati e rimpinzati fino a non poter trangugiare più nulla. Tra le mura dei giardini, di mano in mano che l'oscurità andava infittendosi, si aggiravano ragazzetti simili a gnomi in mezzo agli alberi, facendo dondolare lanterne accese, alimentate con burro, bruciando incenso e talora arrampicandosi sui rami più bassi per dare sfogo con movimenti scomposti alla loro gioia. Collocati qua e là nei giardini, si trovavano braceri dorati per l'incenso e da essi si levavano dense colonne di fumo fragrante. Li alimentavano vecchie, che facevano girare, inoltre, cigolanti ruote delle preghiere ogni rotazione delle quali inviava verso il cielo migliaia di preci. Il babbo si trovava in uno stato d'animo di incessante timore. I suoi giardini recintati da mura erano famosi in tutto il paese a causa dei costosissimi alberi e arbusti importati. Ora, a suo modo di vedere, sembravano uno zoo in preda al caos. Egli si aggirava qua e la torcendosi le mani e lasciandosi sfuggire fiocchi gemiti di angoscia quando uno degli invitati si fermava a tastare un germoglio. Soprattutto minacciati erano gli albicocchi e i peri, nonché i melinani. Gli alberi più possenti e più alti, pioppi, salici, ginepri, betulle e cipressi, erano inghirlandati da festoni di strisce di stoffa con preghiere che si agitavano dolcemente nella lieve brezza serale. Finalmente la giornata giunse al termine e il sole tramontò dietro le remote cime dell'Himalaya. Dalle lamaserie giunsero gli squilli di tromba che annunciavano la fine di un altro giorno, e a quel segnale furono accese centinaia di lampade alimentate con burro di yak. Pendevano dai rami degli alberi, dondolavano appese ai cornicioni sporgenti delle case, mentre altre lanterne ancora galleggiavano sulle placide acque del lago ornamentale. Ora si impigliavano, come imbarcazioni su banchi di sabbia, contro le ninfee, ora andavano alla deriva verso i cigni che nuotavano in direzione dell'isoletta per rifugiarsi al riparo delle rive. Si levò il suono di un gong dalle vibrazioni profonde e tutti si voltarono a guardare la processione che andava avvicinandosi. Nei giardini era stato eretto un ampio chiosco, uno dei cui lati era completamente aperto. Sotto a esso si trovava una pedana con quattro cuscini tibetani. La processione si avvicinò a questa pedana. Quattro servi sostenevano lunghe aste alle cui estremità erano assicurate torce. Poi venivano quattro trombettieri le cui trombe d'argento e mettevano le note di una fanfara. Seguendoli, la mamma e il babbo giunsero di fronte alla pedana e vi salirono. Vennero poi due vecchi, vecchissimi monaci appartenenti alla Lamaseria del Veggente di Stato. Questi due vecchioni del Neshung erano i più abili astrologi del paese. Più e più volte gli eventi avevano dimostrato esatte le loro predizioni. La settimana precedente erano stati chiamati a divinare per il Dalai Lama. Ora dovevano fare la stessa cosa per un bambino di sette anni, per giorni e giorni avevano lavorato sulle carte astrologiche e sui calcoli. Interminabili erano state le loro discussioni su punti trigonometrici, eclittiche, sesquiquadrati e contrastanti influenze di questo o di quell'astro. Parlerò dell'astrologia in un capitolo successivo. Due Lama portavano gli appunti e le carte degli astrologi. Altri due Lama si fecero avanti e aiutarono gli anziani veggenti a salire i gradini della pedana. I vegliardi rimasero in piedi uno accanto all'altro, simili a due antiche statuette d'avorio. Le vesti sfarzose di broccato giallo cinese non facevano che porne in risalto la veneranda età. Sul capo portavano gli alti cappelli sacerdotali e i colli rugosi sembravano cedere sotto il peso. Gli invitati si riunirono tutti intorno e sedettero sui cuscini portati dai servi. Ogni conversazione cessò mentre tutti tendevano l'orecchio per cogliere la voce stridula epigolante dell'astrologo capo. L.H. Adre Mishonang Kig, egli disse, dei, demoni, uomini, tutti si comportano nello stesso modo, per cui il probabile avvenire può essere predetto. Continuò a parlare per un'ora con voce monotona poi si interruppe per un riposo di dieci minuti. Dopodiché continuò per un'ora ancora, delineando il futuro. Ale! Ale! Straordinario! Straordinario! Esclamarono i presenti, rapiti. Ed ecco L. Oracolo. Un bambino di sette anni doveva entrare in una lamaseria, dopo una severa prova di resistenza ed esservi istruito per divenire prete chirurgo. Doveva sopportare gravi avversità, abbandonare la patria, recarsi tra genti straniere, perdere ogni cosa, e ricominciare da capo, e infine riuscire. A poco a poco, la folla si disperse. Coloro C. H. erano venuti da lontano avrebbero trascorso la notte in casa nostra, ripartendo la mattina dopo. Altri avrebbero viaggiato con i loro seguiti e con torce per illuminare il cammino. Tra un grande scalpitare di cavalli e tra le urla rauche degli uomini, costoro si riunirono nel cortile. Una volta di più il portone poderoso si spalancò e gli invitati si allontanarono. Il clop-clop dei cavalli divenne sempre più fioco in lontananza, al pari delle voci dei cavalieri, finché intorno alla casa tornò a regnare il silenzio notturno. Note. 1. Invocazione. Preghiera. Incantesimo.